Aria ex Lebole, Ghinelli annuncia un nuovo piano viabilità per il raccordo autostradale. Il presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni, la questione non è più rinviabile. Ferrovie e i pendolari chiedono chiarimenti sull'incidente del treno Jets da Regione Trenitalia, rimborso straordinario per gli abbonati di luglio. Università di Siena al via le immatricolazioni, ecco l'offerta formativa della sede di Arezzo. Scout, la delegazione a retina in partenza per il Giappone per il ventitresimo raduno internazionale Jambore. Premio Pieve, ecco gli otto diari finalisti dalla Prima Guerra Mondiale ai nostri giorni, un viaggio tra un secolo di memorie. Buonasera a tutti voi, benvenuti su TSD al nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dalla cronaca, si è dovuta barricare nella propria abitazione insieme alle due figlie minorenni per difendersi dall'ex marito. L'episodio di stalking è avvenuto ieri pomeriggio ad Arezzo. Una volante è intervenuta per arrestare un 37enne bengalese in evidente stato di ubriachezza, che stava inveendo contro la donna, una polacca di 36 anni, da cui è separato legalmente. Spaventata dalle offese e dalle minacce, la signora aveva chiamato il 113, giunti sul posto gli operatori hanno identificato l'uomo accertando che era già stato oggetto di varie denunce da parte dell'ex moglie per lesioni, minacce e dati persecutori. A suo carico l'autorità giudiziaria aveva determinato il divieto di avvicinamento alla dimora ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dalle figlie e quello di comunicare con loro in alcun modo. In evidente violazione delle disposizioni del giudice, il 37enne è stato arrestato per atti persecutori e condotto dinanzi all'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina, parliamo dell'area ex Lebole. Ghinelli annuncia un nuovo piano viabilità per il raccordo autostradale. Il presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni, dice che la questione non è più rinviabile. Andiamo a vedere i dettagli nel nostro servizio. Un nuovo progetto di viabilità per l'area ex Lebole, alternativo a quello approvato dalla precedente amministrazione. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Ho stabilito con la famiglia Carrara, proprietaria dell'area, che al momento della concessione edilizia saremo pronti per presentare un progetto alternativo, più funzionale alla viabilità cittadina e al centro Arezzo Fiere e congressi. Sull'urgenza di trovare una soluzione adeguata ad un punto nevralgico dell'economia cittadina interviene il presidente della Camera di Commercio, Andrea Sereni. Questa è un'area che ha assolutamente bisogno ormai di anni di una priorità di viabilità, sicuramente legata profondamente all'esistenza del polo feristico e quindi anche in funzione di quella che sarà l'area Lebole nel proprio complessivo. Quindi è assolutamente indispensabile rivedere la viabilità in questo sito, in questa parte della nostra città, perché rappresenta, come ripeto, un importante tassello dell'economia della nostra provincia. A non convincere Ghinelli, il raccordo interrato a due corsie previsto dall'attuale progetto perché, spiega il primo cittadino, rimarrebbe tale per i prossimi 30 anni e non sarebbe adeguatamente connesso con i parcheggi dell'area ex Lebole del centro Affari. Inadatto anche il sistema di connessione del raccordo con la tangenziale, dove al posto dei semafori sono al momento previste due microrotatorie. Sul nuovo piano viabilità il sindaco di Arezzo ha già ricevuto l'incoraggiamento di Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale ai trasporti e del direttore compartimentale dell'ANAS di Firenze. E rimaniamo ancora sulla questione di alcune scelte politiche, perché la sesta commissione consigliare del comune di Arezzo, quella su scuola, sanità, politiche, sociali e giovanili, ha votato ieri a favore dell'esternalizzazione del servizio per quattro sezioni di scuola dell'infanzia e di una sezione dell'asilo nido per il prossimo anno scolastico. Il presidente Federico Scapecchi parla di un boccone amaro, ma inevitabile allo stato attuale, spiega non c'è alcuna garanzia di poter offrire il servizio per l'inizio dell'anno scolastico, previsto per l'8 settembre. Il motivo è l'imminente pensionamento di una decina di insegnanti e l'impossibilità di assumere nuovo personale alle dipendenze dirette del comune. Resta ancora uno spiraio, spiega Scapecchi, che è dato dall'approvazione all'unanimità da parte della Commissione Bilancio del Senato di un emendamento al decreto enti locali che non vincoli più l'assunzione diretta degli insegnanti ad una preliminare ricognizione con il personale in esubero dalle province. E cambiamo argomento, parliamo di ferrovie. I pendolari chiedono chiarimenti sull'incidente del treno Jets da Regione e Trenitalia, rimborso straordinario per gli abbonati di luglio. Ascoltiamo questa vicenda. Chiarezza sulle cause dell'incidente e sui provvedimenti che verranno presi per prevenire situazioni simili in futuro. È quanto chiedono a Trenitalia i comitati dei pendolari della Valdichiana e di Arezzo a seguito dell'incidente del treno Jets che lo scorso 20 luglio ha perso un portellone nella Galleria San Donato sulla linea direttissima tra Arezzo e Firenze. Gli utenti hanno scritto all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e chiedono a Trenitalia, Regione Toscana, Ministero dei Trasporti e a tutti gli enti competenti di impostare un piano sicurezza efficace auspicando che l'incidente del Jets non diventi un pretesto per espellere tutto il traffico regionale sulla linea lenta. Il preoccupante episodio di lunedì si somma ai continui disagi che i pendolari hanno subito nelle ultime settimane a causa del cattivo funzionamento del sistema di condizionamento nei vagoni. A questo proposito, la Regione Toscana ha ottenuto da Trenitalia di condividere le spese di un bonus straordinario da pagare agli abbonati per il mese di luglio su tutte le linee. Gli utenti interessati devono conservare il ticket di luglio e presentarlo al momento dell'acquisto dell'abbonamento di ottobre ottenendo uno sconto con lo stesso meccanismo utilizzato normalmente per i disservizi sulle linee. Il nuovo contratto che stiamo sottoscrivendo, aggiunge l'assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, prevede penali molto più pesanti laddove la qualità del servizio non raggiunga gli standard richiesti con l'intento di non dover mai più ricorrere a provvedimenti di natura straordinaria. Per quanto riguarda i ritardi, dai dati del mese di giugno emerge un buon andamento delle prestazioni del servizio con un indice di puntualità del 92,4% in linea con la tendenza positiva registrata dall'inizio dell'anno. E parliamo ancora di trasporto pubblico perché in seguito alla delibera adottata dalla Regione Toscana sono in vigore nuove disposizioni per l'accesso alle tariffe agevolate del trasporto pubblico tramite la dichiarazione ISEE. In particolare al momento dell'acquisto del titolo di viaggio agevolato e in occasione dei controlli a bordo è richiesta l'esibizione del tagliando ISEE TPL da parte dell'utente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde della Regione Toscana all'800 570530 o scrivere all'indirizzo email numeroverdetpl.toscana.it Università di Siena al via le immatricolazioni per l'anno accademico 2015-2016 ecco l'offerta formativa della sede di Arezzo. La conclusione del servizio di pre-immatricolazione già attivo dallo scorso aprile si aprono da oggi, giovedì 23 luglio le immatricolazioni per l'anno accademico 2015-2016 nel Dipartimento Aretino dell'Università di Siena. La procedura resta, come già negli anni passati, interamente online consultabile all'indirizzo www.unisi.it slash immatricolazioni per i più indecisi sulla carriera universitaria ci sarà tempo fino al 30 di ottobre per completare la domanda. Il nostro Dipartimento offre due corsi di laurea un corso di laurea in Scienze della Formazione dell'Educazione cioè per tutti coloro che vogliono lavorare o nell'ambito dei servizi educativi o nell'ambito della formazione aziendale e poi offre un corso di laurea triennale per tutti coloro che attraverso le lingue vogliono in qualche modo specializzarsi in professioni che hanno a che fare con la multicultura. Voi però sapete che il nostro campus è sede anche di altri corsi di laurea per professioni sanitarie dove c'è un numero chiuso e di sede della teledidattica per i corsi di laurea in Economia e Commercio. Intanto è di questi giorni la notizia dell'ennesimo risultato positivo raggiunto dall'Università di Siena è suo il sesto posto nella classifica del sole 24 ore che valuta i migliori Atenei d'Italia. Siena guadagna ben tre punti rispetto al 2014 anche grazie alle recenti istituzioni di corsi all'avanguardia che dialogano con le imprese e le aziende. Si iscrive da noi, si iscrive a un dipartimento e ad una diversità vicina ma prestigiosa perché noi in Italia siamo al sesto posto sia per la ricerca che è molto importante cioè i nostri professori sono ad ottimo livello per quanto riguarda la produzione scientifica ma anche per la didattica che significa stage, tirocini che significa un rapporto individualizzato con i professori che significa una grande attività di tutorato da parte dei nostri studenti e avere anche molti spazi a disposizione per l'autoapprendimento. E' morto ieri mercoledì 22 luglio all'età di 86 anni Don Osvaldo Cacciamani nato il 31 maggio 1929 è stato ordinato sacerdote il 3 agosto del 1952 nel 2006 è stato nominato canonico effettivo della concattedrale di Cortona dall'allora vescovo Gualtiero Bassetti attualmente era parroco delle Chianacce di Cortona i funerali saranno celebrati venerdì 24 luglio alle 9.30 presso la chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi in località Chianacce di Cortona e domenica 26 luglio festa della Santa Patrona Santa Maria Maddalena per la Casa per Anziani Diocesana di Gargonza frazione di Monte San Zavino a partire dalle 18 è in programma una messa presso la struttura un'occasione ormai consolidata intorno alla quale da oltre 20 anni una comunità di amici familiari operatori e sacerdoti insieme al proprio vescovo si raccoglie in memoria dei propri cari per condividere quelle esperienze importanti nate e sviluppate intorno ad un punto fermo in materia di assistenza e carità che nel corso degli anni è diventata la casa di Gargonza nella diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro ed ora parliamo di Scout una delegazione aretina è in partenza per il Giappone per il 23esimo raduno internazionale Giambore vivranno 10 giorni insieme a 33.000 coetanei provenienti da 147 nazioni diverse nel cuore del Giappone Andrea ed Esther sono due dei sei ragazzi Scout che rappresenteranno la nostra diocesi al 23esimo Giambori il raduno mondiale che dal 1920 ogni 4 anni riunisce giovani Scout da tutto il mondo in un evento di fratellanza e internazionalità essendo così giovani arrivare fino in Giappone e rappresentare sia la Toscana che l'Italia è veramente importante sicuramente potremo vedere le differenze non viste come un distacco ma come un confronto e questo può essere anche molto importante per portare lo scoutismo d'Italia fino in Giappone e confrontarlo con tutti il moto del Gembori 2015 che si terrà a Kirara Hama nella città di Yamaguchi è Ua l'essenza della cultura giapponese che significa spirito di unità armonia cooperazione e amicizia come spiega Chiara Beucci capo contingente il Gembori è il contesto principe per vivere la differenza che c'è tra tutti i popoli e le religioni nella condivisione dei valori fondanti che sono alla base della promessa Scout uguale per tutti oltre ai souvenir e alle cose scambiate riporterò un sacco di ricordi un sacco di esperienza e di modi di vedere lo scoutismo da altre prospettive nell'anniversario della bomba atomica il 6 agosto una delegazione di ragazzi andrà a Nagasaki e Hiroshima per prendere parte alla cerimonia internazionale di commemorazione questa sarà una grandissima occasione per mostrare al mondo chi crede nella pace perché tutti i popoli saranno lì presenti al memoriale Esther ha già dato prova di avere la stoffa di ambasciatrice in un incontro importante quello con Sergio Mattarella presidente della Repubblica che ha incontrato alcuni dei partecipanti prima dell'evento è stata un'emozione unica anche perché non sono stata scelta solo per rappresentare la mia regione quindi la Toscana ma anche perché ho avuto l'onore di parlare con un discorso che ho fatto insieme a un capo sempre dell'Arizo 14 ho avuto anche questa possibilità ed è stato veramente bellissimo anche se molto emozionante Oxfam sfida la fame al Cortona Mix Festival con la campagna lanciata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle ingiustizie del sistema alimentare globale e portare un aiuto concreto a 40.000 donne nel mondo il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio alle 18 presso il centro convegni Sant'Agostino con l'incontro donne contro la fame che vedrà protagoniste le scrittrici Pulsatilla Candida Morvillo e Beatrice Masini con tre suggestivi reportage di viaggio in Cambogia Marocco e Tanzania chiusura all'insegna della solidarietà il 30 luglio dalle 20.30 in occasione di Street Chef e della cena organizzata da terre etrusche durante la quale sarà possibile partecipare ad una lotteria solidale a favore di Oxfam parliamo di premio Pieve ecco gli otto diari finalisti dalla prima guerra mondiale ai nostri giorni un viaggio tra un secolo di memoria vediamo dai racconti della prima guerra mondiale a quelli degli anni 2000 in mezzo c'è un secolo di storia vissuta e raccontata nei diari finalisti del 31esimo premio Pieve Saverio Tutino i nomi sono stati presentati stamani nella sede della camera di commercio di Arezzo tra loro uscirà il vincitore scelto dalla giuria questa vetrina sull'ultima parte del 900 sugli anni 2000 diciamo che è stata una vetrina fortemente cercata dalla commissione di lettura per lanciare anche un messaggio che l'archivio è anche questo non è soltanto storia del passato nell'edizione dedicata alla commemorazione di due importanti anniversari i cento anni dall'ingresso dell'Italia nella grande guerra e i settanta dalla liberazione arrivano a Pieve le memorie di Emilio Cianca soldato, operaio e socialista Giuseppe Salvemini sottotenente che parte per il fronte a 18 anni Giovanni Viglione sottofficiale della Marina Militare il cui diario comincia nel novembre del 1918 c'è poi Esther Marozzi maestra antifascista che viva a Milano ed escrive con grande acume gli anni della seconda guerra il diario di Giuseppina Pendenza invece racconta una vita povera tra l'Abruzio e le preferie di Roma nel secondo dopoguerra Emilio Boccanera parla di amore politica lavoro e arte durante gli anni 60 come la giovanissima Caterina Minni adolescente che racconta nelle pagine di un diario il percorso intrapreso per uscire dall'anoressia infine il diario dell'esperienza umana e professionale di Giuseppe Novelli medico che trascorre un periodo in un ospedale del Burundi come volontario il premio ha raggiunto ormai una rilevanza nazionale da qualche anno ed è una testimonianza come di una idea una visione che ormai avuta oltre 30 anni fa da Severio Tuitino abbia saputo creare dal nulla una valenza culturale importante e la banca crede insomma nelle attività culturali crede nell'investire in cultura per il territorio soprattutto e parliamo di Arezzo Summer Music School and Festival il gran finale sabato con il celebre baritono Renato Bruson questo weekend gli ultimi tre appuntamenti con Arezzo Summer Music il festival che unisce esibizioni liriche e masterclass per giovani studenti di canto venerdì 24 luglio alle 19 andrà in scena presso il Teatro Vasariano Opere in Movimento un insieme di scene e duetti tratti dalle più belle opere liriche italiane ognuno porta qualche aria ognuno porta qualche scena di diverse opere e questo abbiamo unite con un personaggio e lui è questo personaggio che unisce tutto con suo talento per la seduzione perché lui diventa quasi Don Giovanni ma è un tenore ma tutti si innamorano di questo bravissimo ragazzo più tardi la Basilica di Santa Maria della Pieve ospiterà uno spettacolo dal titolo La Creazione alle ore 21 qualche minuto di ritardo come al solito si usa properremo l'unione tra alcuni brani tutte le aree solistiche dell'oratorio e la creazione scritto da Aydin con alcuni brani intervallati da alcuni brani letti da Elisabetta Giudinetti dell'enciclica del Santo Padre laudatosi appena uscita perché l'enciclica del Santo Padre perché è estremamente attuale e ci pone di fronte alle meditazioni su cosa vogliamo fare di nostra sorella terra e di tutto quello che succede il festival si concluderà sabato 25 luglio con una serata di gala sempre nell'affascinante cornice del teatro vasariano ospite d'onore il baritono di fama internazionale Renato Bruson il maestro Bruson ci ha fatto l'enorme onore di accettare di essere il nostro docente per questa settimana ha fatto una settimana intensissima di masterclass e di corso questa settimana si concluderà con un'intervista al teatro vasariano un concerto intervista il maestro Bruson presenterà i migliori allievi di questo corso che canteranno delle bellissime aree d'opera e racconterà degli aneddoti della sua vita intervistato da Elisabetta Giudinetti e da Edoardo Carrai 100 tennisti in campo per 24 ore ininterrotte tra sport e beneficenza al circolo tennis giotto stanno per scattare le lancette della terza edizione della 24 ore di tennis una lunghissima partita organizzata a cavallo tra venerdì 24 e sabato 25 luglio con il duplice obiettivo di ricordare la figura di Carlo Pini e di raccogliere fondi per sostenere l'attività dell'Aile Fedelux Onlus l'evento ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione come dimostrato dal numero record di 100 iscritti di tutti i circoli aretini e di tutte le età che si sfideranno ininterrottamente dalle 19 del venerdì alle 19 del sabato e questa era la nostra ultima notizia per questa edizione vi ringrazio per averci seguito vi lascio ai nostri programmi grazie a tutti Grazie a tutti.